amici miei bentornati qui sul canale più cacciarone del tubo ragazzi qua non so di preciso che cosa stia succedendo daisi di comstock dice tutti questi qua questa notte sono colpa nostra e dice che non abbiamo nulla di cui lamentarci ma sti carancassi spariamo a tutti non ci sto capendo un ceppo ma non me ne frega niente vado avanti per la mia strada amami anzi no scusa ho sbagliato ho sbagliato vigor dicevo amami bene continua ad amarmi ok brava non ti azzardare ad avvicinarti nemmeno con il suo pensiero chi sei tu via via non vale nulla con la mia super nuova arma distruttiva ok prendiamo tutto quanto scusate perfetto vai 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 ok l'arma l'arma si è risvegliata ecco esplodi ecco il grande peccato di te è vero che noi accettiamo tutto questo non dobbiamo accettarlo chi è che canta un'altra volta qua ragazzina qua ragazzino chi era nello squarcio precedente bella regà questi sono i Vox popoli si come l'eroe dei Vox oddio DeWitt il martire della rivoluzione ricordo di aver guidato i Vox no non ci posso credere ma il martire non vuol dire che io sono morto due memorie nello stesso posto in questo mondo sono morto ragazzi e ce ne andiamo di qui sul first lady forza andiamo dai dai andiamo andiamo prima che muori definitivamente in questa realtà ragazzi ragazzi io sono il martire dei Vox in questo in questo squarcio io sono morto è incredibile di qua stanno giustiziando tutti tutte le posizioni si sono invertite ragazzi diciamo che la plebe ha vinto sta vincendo quindi coloro che prima erano oppressi stanno un pochimendo e te pareva non sono morto sto vivissimo ma do cazzo ragazzi scusate eh a me mi sta a fare più a male che io sono morto in questo mondo io me ne voglio andare voglio tornare nel mondo in cui so nel mondo in cui so vivo via via no 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 ma c'è l'assurdo ragazzi noi dobbiamo andare proprio subito via abbandona la zona si si dammo sei proprio ma voi siete pazzi ma siete veramente sclerati me ne so accorto questa gente servono eroi migliori in fin dei conti l'unica differenza tra comstock e la fitzroy come scrivi il loro nome non ti do tutti i torti sai perché alla fine se gli oppressori opprimono alla fine diventi diventi come chi ti comandava quindi alla fine diventi per essere come loro e quindi non sei degno di essere seguito però non so queste poi sono tutti i barri personali insomma non so tu sei bellissima però io ci tengo a dirtelo se avrò la scelta non ti farò mai del male promesso ma tua sorella fuoco a volontà chi sei chi è che mi vuole attaccare ah no vabbè quasi qua sono tutti amici apposta apposta così qua stiamo in vantaggio numerico quindi tanto meglio per noi approfittiamo di questa situazione come sempre per derubare tutto dove il cecchino eh e te un po' te la spacco via la testa vieni qua eh vieni qua eh te la faccio via la testa vieni si ma sta ma non vale niente c'ha il mirino è precisa ma non vale veramente niente vai automarmato pensaci tu vai ok qui ci abbiamo allora questi sono amici oh ma come cazzo vai amami oh ma tu sei un nemico sei ma pure tu sei un nemico come ti permetti fuggiamo subito qua c'è un macello assurdo ragazzi addio io non sono un martire non sono un martire non sono morto oh ma è esploso in faccia sto schifo ma dimmete allora dove dei soldi tesoro grazie ok automarmato l'abbiamo attivato tieni per muta la dove dobbiamo andare di qua perfetto andiamo auto salvataggio salvataggio profilo va tutto bene così allora amici che ci avete qua 889 doll aiuto cavallo pazzo aggiunge l'abilità di passare l'effetto di fluttuazione da un nemico agli altri vabbè poi che c'ha la come ce l'ho l'energia ok dai un 20% ci sto grazie poi le munizioni ce le ho tutte quante non mi resta che farmi amare anche da voi una a te e una a te datemi i sordi che qua c'è sempre tanto bisogno grazie e qua ma frega di qualcuno vabbè non mi ha sputato nemmeno un dollaro è incredibile quindi torniamo giù di nuovo tanto casino per piastrearmi regà non c'è segreto ma ce l'abbiamo fatta a te che scusate ma piccoli problemi logistici tu non hai creato nessun problema mia cara non ti preoccupare e voi continuate ad amarmi abbiamo fatto siamo arrivati oh oddio ho sparato a degli amici no in ogni caso sono esplosi non fa niente allora blu nemici rossi amici tipo team fortress raga quindi basta ricordarci questo oh come si due no la mia oh ma questi sono più di prima oh ma sta ma la minoranza numerica dove è grazie dove dam bene corri presto 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 niente ci hai ripensato oh oh tacci tua ma hai scravacchiato vai 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 cominci a sparare qualcuno dei loro aia voglio voglio ma la star ma vale niente ma a me mi avete veramente rotto grazie è bella vai ok bisogna usare miseria porca miseria mi stanno mi stanno facendo veramente del male fisico raga tieee non ci arriva tieee oh niente allora niente amami grazie bella amami e poi vengo là a spararti mi sembra l'unico modo lo so che non devo danneggere i miei alleati ma è questa mi spara allora che ci abbiamo qua vediamo subito allora io direi che al posto di quest'arma scrausa io posso prendere niente potenziamento danno dei lanciarazzi del cecchino della pistola aumento del fucile dell'arma scarica ok questa qua si 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 ok che è l'arma che poi dovrei avere in questo momento quindi la rendiamo ancora più potente certo tesoro money money ok più la carabina che mi sa che è meglio che è meglio ok questa era pessima allevate via vedete qua due colpe ed è morta due colpe ed è morta ecco l'armeria questa qui è l'armerina c'è l'in c'è l'in c'è l'in dobbiamo subito andare ok salvataggio profilo no no sono morti tutti e due sono morti booker forza andiamoci ne di qua andiamo alla fabbrica e prendiamoci il dirigibile solid drama ancora il dirigibile non è responsabilità nostra niente hai solo aperto una porta su questo mondo e ci siamo entrati infatti ne sei sicuro si che dobbiamo fare non è colpo do tesoro portato in un mondo in cui c'è lì n'era vivo o l'ho creato ti stanno avvenendo i dubbi quindi mi stai dicendo che mamma mia ragazzi premiamo Jay booker the quid un mio box ha perché abbia un amico in città dopo tutto slate si è unito a questi box popoli e per essere degli irregolari devo ammettere che sono tosti il problema è che prima devo aiutarli con la rivoluzione poi possiamo assaltare casa di comstock così avrò la ragazza e niente sempre per la ragazza eravamo venuti e abbiamo una voce molto più cattiva comunque direi che a occhio e cruce dobbiamo andare qui stai per esplodere stai per esplodere eccola pum pum no niente pum ok ragazzi qua va tutto a fuoco e fiamme fuoco e fiamme fuoco e fiamme tipo il film il corvo dai su stiamo aspettando tutti te saldatore pazzo no 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 ammazzate che casino ragazzi stiamo in una guerra vera e propria qua eh cioè proprio non c'è pietà per nessuno quel pazzo sta andando avanti da su senza problemi meglio meglio così meglio così ce ne deve frega niente aia aia oio oio maledetti cornuti questa è amica o nemica è nemica quindi la distruggiamo oddio scusa non danneggiare i due alleati non l'ho fatto apposta tanto per stare antipatici tutti quanti quindi in un modo o nell'altro morirete tutti dove 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 oh il missile mi è passato a un millimetro dove sta dove minchè sto patriota lancia razzi lancia razzi vai 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 spara spara che spara spara che spara lascia tua un save ah ah ricaricati ricaricati ok rifletti mandra cambia questo e tiragli sta sta bomba in faccia ma fatela finita vecchi cazzoni no 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 scherzavo 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 no oddio faccio tutti gli headshot a me mi chiamo il professionista degli headshot grazie bella ok cioè alla fine sto guidando per la seconda volta questa rivoluzione in simpese cioè sono un martire martire vivo poi muoio insomma è un mondo due mondi variegati che c'è qua è nulla no non mi piace sta porta brutta via via no no è brutta proprio vai che dopo fa dove siamo arrivati oh oh porca puttana aaaaaa ma è il mio diricibile credo quello se lo distruggo come faccio ad andarmene via di qui ma come faccio ad arrivare lì sopra soprattutto ok ho capito ho capito ho capito eh no così è complicata dove stai a portare amico mio così sei un disastro sei fermo 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 da qualche parte aspetta aspetta ok bravo boom questo è il diricibile nostro ma è comandato dai cattivi ah 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 ma mi ah no ho sbagliato coso perfetto ok ahia brutto cornuto sei vivo si sei giustamente vivo muori allora scendiamo di qua uh ragazzi che che pezzo magnifico questo raga bello pieno d'azione come piace al mantra e spero che piaccia tanto anche a voi amici vai vai così oh 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 c'è un patriota c'è un patriota c'è un patriota e per il patriota serve un'arma seria aspetta lo amo vai amami amami fatti ahia ahia patriota fai il tuo dannato dovere e spara a qualcuno ogni tanto ma non vale un cazzo non vale niente non vale nulla non vale niente non vale niente ma vaffanquelo ho capito ho capito che dobbiamo sabotare sto motore un attimo un attimo che è qua è qua sto motore non sta non sta no lo motore non sta qua non è possibile che sia qua caveat viva un morto tu vorrai con me questa qua mandroitch lo so tesoro che è tutto quello che hai non preoccuparti ce le faremo bastare oddio che puntata epica ragazzi mancia pure che ti sei incastrativa la mano che si spacchi tutto ok e riprenditi il first lady perfetto è quello che volevo n dov'è? di qua vai vai che dormo fa? vai oddio che brutta cosa prendila vai grande elisabeth dov'hai? sei scesa qui? Booker DeWitt Booker DeWitt bella regà grazie a tutti grazie epico eh elisabeth epico andiamo a trovare Daisy in fabbrica andiamo e quanto siete cattivi prendiamogli le teste la Fitzroy vuole sangue una cosa è sicura solo una solo uno tra finché la Fitzroy vedrà l'alba bene come dire speriamo che tutto vada bene ragazzi l'handyman può elettrizzare le skyline danneggiando chi le stia usando evitele finché la scarica elettrica non sarà terminata ok autosalvataggio oh 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 ma anche no eh per te è finita di sicuro prendiamoli qua prendiamoli qui voi crepate miseramente aia oh io non mi devi fare del mare aia 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 prepa ma quanti sono sono n mila sono infiniti raga e io li depredo tutti perfetto grimaldello a occhie qui ce ne sembrano un cazzatelli questi comunque non vorrei di niente comunque apriamo ste porte si oddio scusate ma è arrivato un nuovo equipaggiamento 50% di probabilità di fulminare i nemici vicini le vittime subiscono 50 punti danno e sono vulnerabili per due secondi mostriamo il confronto aumenta il raggio delle armi esplosive ma che se ne fanno un seguipaggiamento piccio di fink ok esamina il cadavere abbiamo già fatto tutto quanto e possiamo andare vai premi hop ok elisabeth come stai tesoro tutto bene scusate sempre un piccolo imprevistello intanto sta caricando il ok a poco si credo sia ancora tutto opposto dai su che è che cosa c'è qua è una fabbrica di sali sali infiniti sali pieno di sali pieno di stanno creando tutte macchine raga eh si questo sarebbe tipo il covo il covo di dove si dovrebbe trovare fink quindi dove meglio di questo luogo si potrebbero creare dei nobò quindi chi la pizzeroy e comstock si si decisamente si ecco vedi se le torrette una fallisce invece una funziona quindi quella passa e l'altra no signor signor mio dio ero concentrata su parigi e non pensavo che non potevi sapere che sarebbe successo ho avuto una parte in questa catastrofe se tu vuoi far finta che non c'entriamo niente sei libero di farlo ma ma che mi devi far sentire ancora più in colpa scusi eh chi è adesso al telefono c'è uno stovizio di chiamare al telefono mentre stavo dentro che vorresti di no che con questa anticipazione è molto cattiva non mi piace per niente questa storia ufficio di jeremia fink bene molto bello oh ma perché mi è stato attaccato ma che mi ha fatto avete già ricevuto l'ordine dalla vostra Fitzroy del Kaiser eh andate vabbè di poco vai la fabbrica riprendi di First Lady è certo che me lo vado a riprendere a me sta storia mi ha proprio stancato guardate mi avete proprio stracciato la minchia adesso ve l'ho proprio detto apertamente io vado sì ma prima prima mi prendo tutto quello che c'è qua oddio i soldi regà siamo ricchi siamo ricchi 1416 gold o dollari o chiamateli come volete voi ok c'è qualcos'altro vediamo un po' che io voglio giustamente visitare tutto quanto ragazzi specialmente quando trovo le ananas in tasca ai defunti è veramente come dire un estremo piacere ok questo ah un boxafono vai jeremia fink questi buchi mi hanno mostrato un'altra meraviglia anche se devo ancora capirne l'utilizzo illuminano una combinazione di uomo non volevo adesso non pensavo fosse un uomo in qualche modo sia inferiore che superiore alle parti il processo pare irreversibile forse colstock troverà un modo per usare questa cosa per fare la guardia risacca vabbè ma quello premio per spazzare i miei nemici tieni premuto per afferrare i nemici e rilascia per avvicinarli a te e danneggiarli ok ok ho capito amico mio non ho capito moltissimo di quello che hai detto me lo andrò a rivedere nei video quindi apriamo questa storia qua abbiamo un sacco di di tonici ok qua non mi sconfifferà molto la situazione amici c'è questo questi orologi giganteschi con questo vento molto forte grazie bella eh tutto sto casino per 2 euro insomma falla finita no ah dei si fizzroi animale ma che schifo uccidete gli impostori e poi bruciate i corpi oh no no non siamo un impostorio l'incendiario laggiù tacci vostri niente alla fine se come non aveva fanno usate ok usa dobbiamo usare la risacca là ok dove stanno no aspetta vai vieni qua eh niente non ci arrivo regà non ci arrivo è come faccia l'olipio allora cambiamo armi e morirei morirete tutti i sali mi servono ma freva stupido idiota vieni qua vai vieni qua ah ti imprigiono pure mi piace questo tonico ah 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 ma grazie 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 non è questo il momento ah sto schifoso si è fatto un plode si è fatto dove stanno qui dove sono arrivati dove sono idi ma te sarai in maiale io lo sono in realtà ma non lo dico mica in giro eh spirale tesla che cos'è sto spirale tesla non lo so ah 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 allora io adesso sto a fe dove cazzo siete anima ciao e crepa ok devo andare in alto devo andare in alto non mi ero reso nemmeno conto che fossi sceso dai 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 ok che è sto tonico dammi quel tonico dammi quel ti prego ma puoi ma puoi morire puoi grepare oh chi è ma dove stanno ma riportarci io a te le faccio a pettine le faccio ok al volo grazie bella sei proprio essenziale sei proprio fondamentale sei ok mi attacco qua e mo eh mo non mi attacco eh lo dico io non mi attacco vieni qua vai di qua vogliamo grepare una buona volta per tutte per cortesia oh ma siete niente alla mandra tutti ricercati vai su questo cazzo di ma vaffanculo ottenevi tutto no 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 sto per morire sto per morire sto per morire sto per morire scudo 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 grazie grazie oh cazzo sto per morire guardale ecco ma io vi ammazzo tutti cox popoli bombstock ma io vi faccio a fettine tutti e calla sono morto quando viene salvata la vita avrai parzialmente curato eccetera 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 va bene caro ok abbiamo tutto vediamo se riusciamo a sì ma chiamiamolo pure nella realtà se voglio i soldi io ti assicuro che sarò il primo a dirti sì mia cara ok st'arma a me non mi piace io prendo il fucile da cieco e chi si è visto si è visto ah siete morti tutti qualcuno si muove ma falla finita mo si che c'ho l'arma vera chi è oh cazzo facci tua ma sei un assassino sei zitta io ti sfondo aspetta ma io faccio la guada da dietro che faccio guarda eccola eccola finalmente ma crepa sto dirigibile è mio da almeno 20 puntate tu mi devi rompere la minchia ma falla finita ma che ti piace la cecchina da sulle chiave oh 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 è arrivato quello cattivo ho sentito che è arrivato quello cattivo ma che cazzo è questo grazie 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 da cecchino qualsiasi cosa va bene sto per morire di nuovo sto per morire di nuovo ma dove vanni questo oh cazzo merda ma merda dai no 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 ti prego fuggi 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 da qua fuggi da qui non ho trovato ancora niente eh ho capito ma no 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 graffati mandra cerca di uccidere quella sega allora cambiamo subito ecco cercheremo di bruciarlo lo brucieremo abbiamo cambiato potere vediamo se riusciamo eh allora quando sta sto grandissimo cornuto ok dai dai vieni qua fatte sotto vieni qua berdaccio dov'è ma pure qua sta ma muori grazie 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 non c'è il tempo di ringraziare ma tu sei morto credo che io sfondo oh cazzo ma muori ah la vedo quanto la vedo tosta regà questo va veramente male io devo scendere devo rimettermi qua tranquillo e cambio tonico vediamo un po' se con questo siamo un pochino più efficaci tacci tua dai 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 sbrigate però alcatroia dai 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 tu vai e dai non sei per niente un amico non sei per niente un amico fulmine 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 contro fulmine ti prego esplodi ucciditi porca miseria sei tostissimo sei datemi dell'energia vi prego che andrà a ghiaccia aiutami 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 chi è chi è chi è chi è oh scappa 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 fai la salute fai la salute prendi la salute grazie 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 Elisabeth ti amo ti amo ti prego fuggi fai il giro tondo ma chi c... è tostissimo ragazzi questo è un mega boss è un mega boss questo è incredibile fermo fermo lì fermo lì una minaccia per l'umanità intera ma tu sorella sarà giudicata ma tu lo dico io qua non stai non stai stai lì sopra non ti faccio la testa ma vattene ma vattene ma vattene ma vattene vecchio cazzaro oh ok ho sentito una donna a urlare ok dobbiamo ok qua ok forse qua no aspetta si dobbiamo andare dritti dritto per dritto ok di qua ok poi non ci possiamo andare ok no no al bambino no un tazzardà un tazzardà merdaccia eh lo so come facciamo eh grazie aspetta vai 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 ti spingo subito lì spingi vai vai ok oh non ti fa ammazzare pronto anfame anfame questo è quello che va fatto vedi i fuori sono come le erbacce se li tagli e basta ricrescono se vuoi liberarti delle erbacce devi estirparle con tutte le radici è l'unico modo per essere sicuro ah schifo ah vedi che ho fatto cioè che ha fatto grande lì no no non mi rimane impressionata hai fatto bene piccola hai fatto bene dai come dai tesoro tranquilla 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 so io so quello che ti avevo portato ai gattivi o non so chi sali a bordo del first lady ok amici mei adosalvataggio salvataggio profilo se questo incredibile episodio vi è piaciuto ragazzi un bel pollice non su commentate condividete in tanti iscrivetevi alla fanpage di facebook io vi auguro una buonissima giornata e vi rimando al prossimo ratatatatante video ciao ragazzi